Ciao a tutti, qui dal Consiglio regionale toscano. Volevamo fare un punto su quello che Rossi ha dichiarato in campagna elettorale e quello che sta ammettendo oggi. Sono dati assolutamente controversi, cioè dice una cosa e poi ne conferma un'altra, completamente diversa. Come si può assistere a una devastazione così? Ma poi quando si parla di sanità, cosa diceva Rossi? Cosa diceva? È visibile da tutti al sito Toscana Ci Siamo. Allora, si citano 9 aziende sanitarie, invece sono 3. Si cita che il 75% di toscani non pagheranno il ticket e questa è una bufala allucinante perché anzi sono aumentati i ticket, sono aumentati i costi per chi si avvicina anche al pronto soccorso. diceva che ci saranno 10 milioni per il progetto Vita Indipendente. Ad oggi non sappiamo, non ci sono questi soldi. Insomma, questo è quanto. Noi assistiamo a delle promesse in campagna elettorale che puntualmente non vengono mai attese.